La Guardia di Finanza ha rintracciato in mare a largo di Otranto la barca a vela con a bordo due scafisti dalla quale erano stati sbarcati in queste ore lungo la costa Leccese di San Cataldo 25 migranti siriani-iraniani, tra cui 6 donne e 9 bambini. I due scafisti, un 24enne ucraino e un 23enne russo, sono stati arrestati per favoreggiamento all'immigrazione clandestina e la barca sequestrata. Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori migranti, per la maggior parte nuclei familiari erano partiti da Istanbul, in Turchia pagando dei 5.000 ai 7.000 dollari a persona per un viaggio durato 5 giorni prima di approdare sulle coste pugliesi. La barca, utilizzata, è lunga 14 metri e batte bandiere americane. I passeggeri sarebbero stati costretti con la forza a rimanere permanentemente sacrificati sotto coperta, sempre al chiuso durante i 5 giorni della traversata. Il veliero è stato rintracciato da motovedette del reparto operativo aeronavale, della Guardia di Finanza di Bari, dai pattugliatori del gruppo aeronavale di Taranto, mentre a luci spente si allontanava dalla costa. Nel canale d'Otranto, un controllo a bordo ha immediatamente rivelato che era l'imbarcazione utilizzata per il trasporto dei migranti. Qualche ora dopo, i finanzieri hanno anche recuperato un piccolo gommone con motore fuori bordo, abbandonato con dei giubbini a bordo nella zona dove era venuto lo sbarco vicino Lecce e che era riconducibile alla stessa imbarcazione.